Salve a tutti ragazzi sono ZedaWheelix, oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui vi mostrerò altre attività moddate Una in cui dovete inseguire delle mucche, e non sto scherzando, sopra la loro bici, o meglio BMX Poi ci sarà un'altra attività in cui ci sono dei pupazzi di neve, dei modelli strani E la Space Docker, o meglio più Space Docker, o meglio quelle macchine aliene, che potrete guidare come volete Poi ci sarà anche una gara moddatissima con delle cose veramente molto strane tra cui metteriti Ed infine un'attività in cui ci sono dei pagliacci che vi spareranno anche con il lanciarazzi, o meglio cannone pirotecnico In modo che quando li ucciderete potrete prendere quest'arma anche su GTA Online normalmente La potrete utilizzare anche nelle altre sessioni, oltre che in quell'attività, dato che adesso non si può più acquistare Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace, anche perché ci vogliono solamente due secondi Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti, direi che possiamo cominciare subito Allora, per raggiungere questa attività nella vostra console dovete andare nella descrizione di questo video E quindi guardare in base alla vostra console l'attività da aggiungere Che sia PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Guardate bene perché ci sono per tutte le console E una volta che avete aggiunto l'attività al gioco dovete andare su GTA Online, poi premere Start Andare su Attività preferite, Cattura oppure Gara Dipende un po' quale attività modata avete scelto Comunque sia, o può essere una gara o può essere una cattura Dovete un po' vedere voi la tipologia dell'attività Come vedete nella prima attività ci sono praticamente delle mucche che scappano dal Monte Ciliad Le dovete rincorrere per poi ucciderle e riprendervi la bici O meglio riprendere la bici che loro stanno rubando E quindi portare la bici, una volta che avete ucciso la mucca, nella vostra base E il primo che riuscirà a portare almeno una bici rubata dalle mucche Ora non so se si possa impostare il puntetto nella sala d'attesa ma credo di sì Una volta che avrete riportato la bici nella base avrete vinto l'attività Ed è davvero un'attività fighissima come avete visto, una cosa davvero molto molto strana Parlando invece della seconda attività non c'è molto da dire È più un'attività da cazzeggio più che competizione Come vedete ci sono solamente delle space docker, dei pupazzi di neve, dei modelli davvero molto strani Un'attività sì abbastanza per cazzeggiare molto libera Vi ricordo che comunque sia le impostazioni dell'attività le potete impostare come vi pare liberamente Non importa che le possiate ritoccare ma se volete fatelo pure, tanto non succede comunque niente Passando invece alla terza attività davvero molto strana Si tratta di una gara in questo caso In cui ovviamente dovete competere con i vostri amici normalmente Però ci sono davvero delle cose molto strane Rampe volanti, alberi di Natale, parabole, meteoriti Poi ci sarà anche una parte davvero molto difficile da gareggiare come state vedendo nel video Davvero una cosa molto 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 figa però anche molto strana Anche questa gara comunque sia se vi interessa da un bel po' di punti per chi arrivo prima Quindi potete anche livellare divertendovi appunto facendo queste attività con i vostri amici Passando invece all'ultima attività Infine invece si tratta di un'attività che serve principalmente per raccogliere un'arma che oramai non si può più trovare su GTA Online Ovvero il cannone pirotecnico, il lanciarazzi che spara fuochi d'artificio Non so quanti di voi lo possano conoscere comunque sia Penso che chi gioca a GTA da giugno in poi o anche almeno da Natale Sa di cosa si parla Praticamente si tratta di un'arma che stanno utilizzando questi pagliacci Voi uccidete il pagliaccio, raccogliete quell'arma e avrete appunto quest'arma E se uscite dall'attività la avrete comunque Quindi questa attività può anche essere utile per chi non ha mai provato questo cannone pirotecnico Vi ricordo che comunque sia questo cannone non fa tantissimi danni Più che altro è utilizzato per cazzeggiare, per sparare in cielo o comunque sia per fare bello in città Però comunque sia nonostante sia un lanciarazzi non ha davvero moltissimi danni Quindi ricapitolando su questa attività in pratica dovete uccidere un pagliaccio con questo cannone pirotecnico Lo raccogliete per terra e quando lo avrete potete anche uscire dall'attività Utilizzando ovviamente il cellulare oppure anche il menu pausa senza dover per forza finire l'attività La potete finire, la potete anche non finire, non importa Avrete comunque il cannone pirotecnico Ora non so se il cannone rimarrà anche se spegnete la console Però sicuramente se uscite subito dall'attività ma starete sempre su GTA Online Potete utilizzare questo cannone pirotecnico anche nella sessione in cui vi connetterete Niente ragazzi, detto questo per favore lasciate un mi piace, ci vogliono solamente due secondi Lasciate un mi piace alla pagina Facebook Se vi va la troverete nella descrizione di questo video Come anche l'attività Ed infine iscrivetevi al canale per altri contenuti Da ZWX è tutto, al prossimo video Ciao 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 Ciao